Scelta obbligata, questa è la frase più appropriata preferita dai banchi della maggioranza in occasione della seduta del Consiglio Comunale di Bovalino e riferita alla dichiarazione di dissesto programmata al punto 3 dell'ordine del giorno. La decisione, seppur dolorosa, è stata prevista dagli articoli 244 e 266 che recitano sia allo stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e servizi indispensabili, ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte. Quindi si tratta di un atto previsto e sancito dalle normatie vigenti che impongono ad un'amministrazione in carica di procedere alla dichiarazione di dissesto quando non sussistono i requisiti minimi per garantire una gestione tranquilla dal punto di vista economico-finanziario. Tale decisione, ovviamente osteggiata dalla minoranza Nuovo Calabria con i consiglieri Alessandra Polimeno e Gloria Verressare e l'impegno della partecipazione con Francesco Gangemi e Rosalba Scarfò, non tanto nella forma quanto nei contenuti sostanziali. Il fatto è che le casse comunali versassero in condizioni più critiche era noto già da tempo a tutti ed era altrettanto palese che chiunque avesse vinto le elezioni prima o poi sarebbe dovuto scontrare con questa dura realtà. Nella seduta di sabato erano tre i punti all'ordine del giorno. Il primo riguardava la lettura e l'approvazione dei verbali relativi al Consiglio Comunale precedente. Il secondo invece riguardava la ratifica della variazione di bilancio adottata in via d'urgenza. Il terzo invece era quello più importante, cioè la dichiarazione del dissesto finanziario. Su tale punto ha relazionato in maniera dettagliata e precisa l'assessore al bilancio dei tributi e al mercato e all'attività produttiva e alla programmazione economica l'avvocato Maddalena Dattilo. La sua è stata un'elencazione certosina di numeri e dati che hanno fatto ben comprendere come si è giunti a questa drammatica ma necessaria decisione. La massa debitoria emersa dopo le ripetute richieste di conoscere l'effettiva consistenza ammonta a circa 5 milioni di euro e nello specifico quasi un milione di euro dell'area amministrativa, 4 milioni dell'area tecnica manutentiva e il debito con la regione Calabria per la fornitura di acqua idropotabile relativa al periodo del 1985 al 2004 ammonta invece a 2 milioni e mezzo di euro a fronte di una pretesa alla regione di 5 milioni virgola 7 mentre i passivi dell'ente destinati a coprire il debito stesso ammontano a circa 3 milioni di euro. Dunque questo è il quadro drammatico portato alla luce dagli uffici competenti che è stato relazionato nella seduta del Consiglio Comunale. A conclusione della seduta è intervenuto anche il sindaco, l'avvocato Vincenzo Maesano che ha chiarito punto per punto evidenziando il fatto che la scelta non è solo obbligata ma è anche la migliore possibile in questo momento perché così facendo si può nell'arco di un quinquennio risalare l'ente e far ripartire in maniera concreta la macchina istituzionale cosa che non sarebbe stato possibile fare nel caso contrario a causa degli onerosi mutui già contratti e che impegnano il Comune per almeno un triennio. Ha poi detto Maesano che quanto affermato ufficialmente nella relazione stilata dai commissari straordinari nel mese di aprile del 2017 non corrisponde in realtà al vero perché i dati forniti dagli uffici competenti riportano una massa debitoria molto superiore a quella loro indicata. È stata una mera svista o sono stati volutamente indotti in errore? A noi, dice Maesano, in questo momento non interessa puntare il dito o ricercare ad ogni costo il colpevole ma interessa invece far ripartire l'azione di risanamento del paese cosa che per alcuni versi stiamo già facendo ed è ben visibile sotto gli occhi di tutti.